Tragedia questa mattina in località Campolongo, ad Eboli, in provincia di Salerno. Un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato e ucciso da due pitbull, ferita anche la mamma, in un disperato intervento per salvare il figlio. L'episodio è avvenuto di primo mattino, mentre il piccolo era in braccio ad uno zio e in compagnia della madre. Secondo una prima ricostruzione, i cani sarebbero entrati all'interno del cortile privato, azzannando immediatamente il bimbo strappato dalle braccia dell'uomo rimasto illeso. Nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Sul caso, la procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Indagano i carabinieri della compagnia di Eboli agli ordini del capitano Greta Gentili. I cani sarebbero di proprietà di amici di famiglia del bimbo, mamma italiana, papà di nazionalità straniera, che non abiterebbero più con la coppia, ma avrebbero lasciato i cani lì.